Vizi sull'Ilva ma la gara non è nulla. Lo scrive Il Quotidiano Il Messaggero circa il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato da ieri sulla scrivania del Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio sulla procedura di gara per la vendita dell'acciaieria Tarantina. Secondo Il Popolo dei Social, scrive invece Il Sole 24 Ore, il parere dell'Avvocatura sarebbe già sulla scrivania del Ministro da venerdì sera ma ad oggi nessuna conferma ufficiale e arrivata dal Ministero. Per Il Quotidiano Romano l'Avvocatura nel parere elenca i principi giuridici applicabili alla materia ma rimette al Governo la scelta se quegli stessi principi sono tali da far annullare la gara, se esiste un interesse pubblico attuale e concreto all'annullamento oppure se alla fine le conseguenze sono tali da far considerare non conveniente rimettere tutto in discussione. Sintetizzando, qualche vizio procedurale c'è ma non è tale da far annullare automaticamente la gara anche perché i vincitori hanno agito in buona fede. Per cui la decisione spetta al Ministro Di Maio. Il Sole 24 Ore spiega invece che la sensazione condivisa da alcuni osservatori vicini al dossier ILVA è che l'Avvocatura si sia espressa e che non ritenga che ci siano i presupposti per annullare la gara di aggiudicazione. In attesa delle decisioni del Governo il fronte anti-ILVA, composto da associazioni e movimenti ambientalisti, si è fatto sentire con un'iniziativa shock. Nel quartiere Tamburi è stato affisso un manifesto funebre con la domanda quanti altri bambini devono morire affinché ILVA raggiunga il pareggio di bilancio. Sarà esposto, fanno sapere i promotori, per 14 giorni consecutivi con in calce proposte chiare. No ILVA, chiusura, bonifiche, reimpiego dei lavoratori, riconversione economica. L'iniziativa vuole richiamare il Governo ad adottare misure a tutela dei tarantini. motsi di ombra, ecco scab � 21 anni, passare un' proprio